Lo sapevo ragazzi, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, quando ho visto il Milan sta perdendo l'Inter questa partita non la vincerà mai, quando c'è da fare il passo decisivo cazzarola ancora ci manca qualcosa, uno ma soprattutto l'aspetto e il dato più importante ormai è una storia comprovata questa, l'Inter contro avversari che ti chiudono gli spazi va in difficoltà, contro a Juve è un'altra roba perché la Juve ci ha dato spazi, messa in campo malissimo, oggi l'Udinese piazzata bene in campo, 3-5-2 contro 3-5-2, quando ti si mettono a specchio contro di te, ti chiudono gli spazi, la partita diventa molto più dura e se questo equilibrio si protrae nel tempo diventa veramente una partita difficilissima da rompere, un equilibrio difficile da rompere, ormai ragazzi è risaputo, cioè è un dato se fate mente locale, l'Inter quando ha fatto fatica, quando ha fatto partite di M contro lo Shakhtar che abbiamo fatto 0-0 all'andata, al ritorno, oggi un'altra partita non è stata una bella Inter, assolutamente, ma è stato un'Udinese che tatticamente era ben messo in campo, ben messo in campo, Brozovic contro la Juve aveva la libertà di prendere palla a giostrare, fare il regista, ha toccato tantissimi palloni, oggi ne ha toccati molto meno, molti molti meno, palloni giocabili per gli attaccanti pochi, pochissimi, 1, cazzarola che non era manco un pallone giocabile ma era una palla recuperata da Lautaro, lì mi devi far gol, lì mi devi far gol, iniziano ad essere troppi i gol mangiati da Lautaro, per carità, almeno ha preso la porta, Musso comunque ha fatto una grande parata, lì però un attaccante forte, dopo che recupera la palla, lì praticamente al ridosso del dischetto, quasi dell'area di rigore, un pochino dentro l'area, e lì cazzola devi spaccare la porta, lì la devi spaccare, quella è stata veramente la grande occasione che ha avuto l'Inter, nel primo tempo, un primo tempo giocato a ritmi bassissimi, le cose per me sono andate un po' meglio con i cambi, e quei cambi io li avrei fatti un po' prima, perché era proprio la partita sgamata dove ti serviva più qualità, Conte i cambi li ha fatti Sensi, Sanchez e Perisic, li avrei fatti anch'io, anzi se proprio vogliamo dirla tutta, forse avrei provato il tutto per tutto, togliere un centrale ammonito, magari bastoni, che l'Udinese non attaccava praticamente, l'Udinese è stata pericolosa in un'occasione con un tiro da fuori di De Paul, basta, non ricordo altri scossoni da parte dell'Udinese, praticamente giocava di rimessa, quindi sempre sto fatto di tenere comunque i tre centrali in campo, magari avrei provato mettere pure Eriksen, 4-3-1-2, provarle tutte, tutte, però francamente oggi non mi sento di dare grandissime colpe a Conte, voi lo sapete come la penso su Conte, oggi non mi sento di dargli tantissime colpe se non quella di, magari poteva anticiparli prima sti cazzarola di campi, aspettando fino al 67esimo per sparare le tre cartucce delle sostituzioni praticamente, io le avrei fatte un po' prima, un po' prima, quando incontri sti avversari con gli spazi intasati, ti serve la qualità ragazzi, ti serve gente di qualità, ti serve gente che sappia inventare qualcosa, un tiro da fuori, un calcio piazzato, te la mettono sulla testa, la devi cercare, devi cercare di sbloccarla con un episodio o con un giocatore che crea qualcosa, qualcosina con l'ingresso di Sanchez, se enzi è, l'ho vista, ho visto un po' più di qualità, quegli 1-2 con Hakimi, qualcosa in più l'ho vista, ma del resto comunque non è stata una grande intero. Anche le individualità Hakimi, Lukaku, Lautaro che, ripeto, si è mangiato un gol incredibile, che non deve mangiarsi buona, buonissima, bellissima parata di musso, Costa Curta ha detto la migliore parata del campionato, sono anche d'accordo, lì però se tiri veramente forte, il portiere lo può solo guardare con la palla, perché c'è di tutto lo specchio della porta praticamente a disposizione, iniziano ad essere troppi sti gol mangiati da Lautaro, ma comunque stavo dicendo, le individualità oggi hanno balbettato, Vidal oggi è tornato quel Vidal che sembrava dalle scorse partite, ma ripeto, perché? Perché con la Juve ha avuto spazio per inserirsi, tempo di inserimento, di testa, anche là avevo detto con i piedi sbaglia ancora qualcosina, oggi con gli spazi più stretti, Barella anche lui ha fatto più fatica, Brozovic ha toccato molti, molti meno palloni, Vidal la stessa cosa e si giocava sempre sotto ritmo e nessuno che provava una giocata importante, punte, hanno avuto veramente pochissimi palloni giocabili, Lukaku quando gli dava i palla addosso oggi non ha tenute palle, c'è da dire. Altre volte si trasformava anche passaggi sporchi in occasioni, situazioni, oggi Lukaku ha dovuto lavorare sempre spalle alla porta, sempre e comunque, Hakimi oggi non è stato incisivo come siamo abituati a vederlo e nulla mi toglie dalla testa che veramente forse tutte queste voci di quel pagliaccio lì del correre dello Spork di Zazzaroni a Hakimi torna al Real che addirittura si è dovuto scomodare il Real Madrid per smentire quel clown lì, nulla mi toglie dalla testa che Hakimi oggi abbia giocato un po' con la testa, no? Ci sta, eh? Ci sta, il tuo nome così finisce in prima pagina così dal nulla che ti trattano come se fosse un pacco postale, ah adesso torno al Real così che sono tutte cagate, lo sappiamo benissimo. Secondo me ha risentito un po' mentalmente di queste pressioni che si sono verificate proprio a ridosso della partita, Zazzaroni sarà riuscito nel suo intento, nel suo intento. Per il resto ragazzi dispiace, dispiace perché veramente queste occasioni, c'è tempo per carità, c'è tempo, c'è tempo, c'è tantissimo tempo, queste però sono occasioni che una squadra come l'Inter deve battere Udinese, ma si deve capire ragazzi che, ricordate i discorsi che ho fatto sulla mezzala di qualità, serve più qualità in questa squadra, perché quando incontri le squadre chiuse, è là ti serve più qualità. Avrei provato qualche soluzione magari diversa, provare a mettere Sanchez dietro Lautaro e Lukaku, provare un po' più di qualità, questo è, questo è il discorso, quando affrontiamo quella tipologia di giocatori lì, andiamo un po' in affanno, anzi, un bel po' in affanno. Ripeto, se si protrae l'equilibrio nel tempo, l'Inter non riesce a sbloccare più la partita. E quando anche le individualità, che già con gli spazi intasati magari offrono meno, perché un Achimi con lo spazio intasato non gioca bene come un Achimi quando ha spazio, a gamba libera per poter correre e sprigionare la progressione. Però succede questo, praticamente, ed è veramente un peccato perché ne dovevamo approfittare. Il Milan ha perso, adesso ci sarà il derby di Coppa Italia. Vediamo, anche lì la partita dipende molto dalle partite che andiamo ad affrontare. Se il Milan ci lascia a campo, allora l'Inter può andare a nozze. Se il Milan fa assaggiamento una partita che anche lì aspetta e riparte, allora possiamo andare in difficoltà come siamo andati in difficoltà all'andata in campionato. L'unica cosa che mi sento di dire su Conte è che appunto Conte si doveva aspettare un udinese più guardingo, più da fase difensiva, e te lo dovevi aspettare. Quindi forse partire dall'inizio con Vidal, Barella e Brozovic, forse avrei usato un po' più di qualità. Però giustamente i cambi, ripeto, sono stati fatti, io li avrei fatti solo un po' prima. Tutto qua, tutto qua. Comunque, io non mi fascio la testa, anche se ho rammarico. Ho rammarico perché queste partite ne devi approfittare. Young non mi sta piacendo ultimamente, non incide né in fase offensiva né in fase difensiva. Direi che è arrivato il momento di provare d'Armian lì a sinistra con Hakimi a destra e speriamo subito di recuperare le individualità che oggi, ripeto, oggi un po' hanno balbettato. Oggi hanno un po' balbettato, ma ripeto, me lo aspetto quando gli spazi sono più bloccati. Io questa Inter qua, vi ricordate, ma anche con la Juve stesso ho detto, ragazzi, se ci chiudo, io quando ci lasciano campo non ho preoccupazione. La Juve ci ha lasciato campo, l'Inter ha fatto un partitone. Con l'Udinese, spazi Pintasati, siamo andati in difficoltà. Questo è. Il mercato non si farà, come ha detto Marotta, io continuo a ripetere che questa per me è una rosa che può vincere tranquillamente lo scudetto, lo ripeto. Fatto sta che quando incontri questa tipologia di avversari che si chiudono, devi essere bravo a trovare soluzioni alternative. Alternative. Un po' più di qualità, un cambio modulo. E questo deve farlo contro. Allora, se riusciamo anche a venirne a capo di questa cosa, allora sì che veramente possiamo... Lo si può vincere lo scudetto tranquillamente, perché sto sentendo... Ah, non siamo... No, questa squadra non è da scudetto. Dopo questo pareggio ho letto su Facebook robe allucinanti. E chi è da scudetto allora? Chi è? Battilai una settimana fa, questa squadra non è da scudetto. Sì, fai i passi falsi che non ne approfitti, ma non che non siamo da scudetto. Comunque, ragazzi, parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate. C'è il rammarico ovviamente perché non ne approfitti mai di questi passi falsi, non ne approfitti mai, però ripeto, io sarei più preoccupato del fatto di trovare avversari che si chiudono, si mettono a specchio e l'Inter che fa fatica. Quella è una preoccupazione, quella secondo me è una preoccupazione proprio sul campo giocato. Tutto qua. Speriamo che Lautaro non si mangi più gol perché anche quello, ripeto, indirizza, perché se sblocchi la partita nel primo tempo è quella situazione comunque arrivata con una palla recuperata e non di gioco sviluppato. Quando deve sviluppare l'Inter gioco con questi uomini più di quantità che di qualità, la cune si vede. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare. Un saluto a tutti, amici! Sempre, sempre amala! Peccato, ripeto, peccato ancora una volta, ma non ci facciamo la testa comunque, assolutamente. Ciao ragazzi!